Oggi è una bellissima giornata perché dopo un anno di attesa, un anno particolare, un anno in cui tante cose sono cambiate, siamo riusciti a inaugurare questo padiglione di Expo. Abbiamo avuto adesso dal commissario una notizia molto importante che nel primo giorno il padiglione più visitato è il padiglione italiano, quindi questo vuol dire che il nostro paese sta ripartendo e sta ripartendo bene. Noi come Regione Lazio, come Lazio e Nova abbiamo dato nei mesi precedenti e daremo il nostro contributo. Abbiamo portato avanti tante iniziative di ascolto per le imprese, per tutte le attività del territorio che vogliono in qualche maniera partecipare a questa manifestazione e con l'inizio oggi in presenza delle attività continueremo a farlo ancora di più, promuovendo anche quello che è il nostro hub aperto presso la Camera di Commercio, il nostro Lazio Region Hub, che è una sede permanente per questi sei mesi della Regione Lazio e di Lazio e Nova. Noi ci siamo e ci saremo sempre per tutte le nostre imprese che desiderano venire qui e che desiderano approcciare questo mercato e questo tipo di settore.